Cari amiche e cari amici, questo è un video che mi farebbe molto piacere se fosse condiviso, quindi se vi è piaciuto alla fine condividetelo. È una riflessione che vi propongo. Parte dai video di Don Minutella, certo, e dalla mia difesa strenue che sto facendo per questo uomo che è veramente schernito, diffamato da tutte le parti. Però ho notato sotto i video che riguardano appunto Don Minutella, dei post che dicevano sì però non sono molto d'accordo con Don Minutella in questo momento perché... e quindi iniziavano una specie di polemica. Allora io invito tutti a uscire dalla polemica e uscire anche dal caso specifico di Don Minutella, perché adesso vi farò capire come Don Minutella potrebbe essere qualsiasi persona, potresti essere anche tu che mi stai ascoltando. In questi giorni ci hanno privato delle libertà, libertà che sono state frutte anche della lotta e i nostri padri, i nostri nonni hanno sacrificato anche la vita per questi ideali. Un'altra riflessione con cui voglio aprire questo video è questa. Platone diceva di non confondere la libertà con la licenziosità. Questo è molto importante perché il mondo moderno ha confuso proprio la libertà con la licenziosità, per cui essere liberi vuol dire fare quello che mi pare. Ed è proprio questa mentalità che ci ha portato a questo punto di disgregazione sociale. Platone che dice? Dice bisogna avere un ideale e agire e aderire in conformità con quell'ideale. Questa è la vera libertà. Allora sarai realmente una persona libera se riuscirai a fare questo. E do un piccolo rinforzo a questa riflessione citandovi un aforisma di Ezra Pound. Ezra Pound diceva se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale nulla lui. Questo è fondamentale. Lottare per le proprie idee. Dietro questa lotta, o meglio dentro questa lotta o attraverso questa lotta, noi ci realizziamo come esseri umani e siamo liberi nel tipo di libertà che ho appena accennato parlandovi di Platone. Di conseguenza, rileggo, se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale nulla lui. Quando una persona viene perseguitata per le sue idee, quando c'è questo accanimento, non è importante se questa persona si chiami Don Minutella o si chiami Bio Blu, che come Don Minutella, anche se per altri motivi, ha avuto delle denunce perché proponeva una lettura alternativa degli eventi che stanno succedendo. Allora vedete, Bio Blu, Don Minutella, non è tanto importante. Può stare anche simpatico o antipatico, Bio Blu. Non possono condividere le idee di Don Minutella, ma quello che riguarda tutti, per cui siamo tutti Bio Blu, siamo tutti Don Minutella, è la libertà di parola, la libertà di espressione e che non è giusto accanirsi contro delle brave persone semplicemente perché il pensiero unico ci vuol far ragionare tutti allo stesso modo. E attenzione perché molte delle libertà che ci hanno levato in questo periodo di reclusione dentro casa per il virus non è detto che ce le restituiscano. Finita tutta questa storiaccia. ulteriore riflessione. Questa è una predica molto famosa. Ve la leggo direttamente. Non è importante adesso chi l'ha fatta, ma è importante il concetto contenuto in questa predica. Ascoltate. Prima di tutto vennero a prendere gli zingari. Fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei. Estetti zitto. Mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali. e fui sollevato perché mi davano fastidio. Poi vennero a prendere i comunisti. Ma io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Riflettete amici. Questo che stanno facendo a Bio Blu, quello che stanno facendo a Don Minutella, questo tipo di accanimento, potrebbe riguardare ciascuno di voi. E sarete fortunati se troverete qualcuno che protesterà con voi. Bene, cari amiche e cari amici, se vi è piaciuto questo video, fatelo circolare il più possibile. Un pollice su per il mio lavoro, sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo. Grazie a tutti.